Bioplastiche, green food packaging, spugne magnetiche in grado di assorbire gli sversamenti di petrolio nelle acque, cerotte intelligenti. Cosa accomuna tutte queste cose? Il team in cui sto svolgendo il mio dottorato di ricerca. Si tratta del gruppo di Smart Materials presso l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova. Io sono Fabrizio Fiorentini e sono un biotecnologo molecolare e il mio progetto di ricerca si basa sullo sviluppo di sistemi a rilascio controllato del farmaco per il trattamento delle ferite della pelle. Caratteristica principale di questi cerotti intelligenti è quella di essere fabbricati completamente a partire da polimeri di origine naturale, il che li rende del tutto biodegradabili. Eh sì, perché l'idea è quella di creare un cerotto che, oltre ad aiutare il processo di rigenerazione del tessuto cutaneo, non vada ad inquinare l'ambiente. Ciao!